Contro le violenze subite dagli operatori sanitari, arrivate ad una media di tre casi al giorno, il Governo pensa all'estensione del daspo urbano agli ospedali. Ad annunciarlo è stata il Ministro della Salute Giulia Grillo, precisando che la misura dovrebbe essere inserita nel decreto legge in materia di sicurezza pubblica di prossima emanazione. In altre parole, ai responsabili delle aggressioni, sarà imposto il divieto di entrare nelle strutture dove operano i camici bianchi vittime degli attacchi. Non ci sarà l'equiparazione tra il medico e il pubblico ufficiale, una misura ritenuta esorbitante per gli oneri e le incombenze che avrebbero pesato sugli operatori sanitari, ha specificato Grillo. Il Ministro però ha aperto alla possibilità di introdurre una specifica circostanza aggravante a carico di chi commette un reato con violenza o minaccia in danno agli esercenti le professioni sanitarie.